Buonasera a tutti, siamo nello store di Marco Felli a Street Mentality a Guidonia e per parlare, per farci una chiacchierata con Marco molto esperto di rap e questo video lo dedichiamo a Noiz Narcos che ricordo è stato proprio in questo negozio di abbigliamento streetwear a Guidonia, ha fatto un live con Gengis Khan e Ghast quindi Noiz Narcos ha appena fatto uscire un singolo Attica come mai questo nome Attica? questo nome comunque invoca la Grecia Antica sì, l'Attica è una regione dell'antica Grecia sì, non so se è inerente comunque al fatto della crisi, dei scontri in Grecia l'argomento del video qual è? l'argomento del video diciamo è più una ripresa di immagine nel settore rap del Noiz perché comunque manca da parecchio nei video, nella scena sta avendo un buon successo è un ottimo successo, sui 300-400 mila visualizzazioni in due giorni in due giorni si, sta a straccia a tutti e mi dicevi sta per uscire il suo nuovo album? esce il suo nuovo album che sono bei mesi che stanno aspettando tutti i fan l'uscita dell'album che è stata ritardata due o tre volte ma lui è indipendente? ma lui si è indipendente, sta con una quadraro basement che è la stessa della ragazza Baby Kay sì, sì, e propaganda, propaganda records sono due etichette diciamo però diciamo di buon livello, anche se indipendenti sul rap vanno forti basta vedere il video e si rende conto comunque sembra quasi un trailer di un film americano anche la musica la musica del primo livello rime del primo livello veramente è ritornato sulla cresta dell'onda quindi si sa come si chiama questo nuovo album? Monster Monster, sì, il mostro già stanno uscendo un po' di copertine quindi un saluto a Noiz sì, un saluto a Noiz da Guidonia salve ragazzi lo vogliamo rivedere qui allora eh, magari, magari, magari